Vissuto tra il 1836 e il 1882, Thomas Hill Green è una delle massime figure dell'idealismo inglese. Egli fu allievo di Coleridge e diede grande impulso all'idealismo nel mondo anglosassone. In Francia la reazione al dilagante positivismo si era sviluppata mediante lo spiritualismo, come sappiamo. In Inghilterra, dove in realtà l'empirismo da sempre era stata corrente filosofica egemonica, stante alla base tanto dell'illuminismo quanto del positivismo, in Inghilterra, dicevo, la reazione al dilagante positivismo si svolge con uno sguardo rivolto soprattutto alla Germania. Come Coleridge aveva reagito all'illuminismo e all'utilitarismo guardando al romanticismo teutonico, così adesso la cultura inglese vuole opporsi al positivismo recuperando l'idealismo tedesco, segnatamente l'idealismo dello Hegel. In particolare restaurando quei valori dello spirito che la cultura positivistica aveva annichilito. Si ha quindi anche in Inghilterra un particolare ritorno allo Hegel. Un ritorno allo Hegel che, se limpidamente inteso, si presenta come un ritorno soprattutto alla dialettica di Hegel e a una concezione del Geist, dello spirito. In questo orizzonte di senso viene sviluppando le proprie riflessioni Thomas Hill Green. Egli è un attento studioso di David Hume e fu insieme a Thomas Grose il curatore dell'edizione inglese delle opere del filosofo scozzese. Fu lui a curare l'edizione e a compiere le introduzioni alle due sezioni del Trattato sulla natura umana di David Hume. Non di meno, pur muovendo da studi rigorosamente iumiani, Green rileva e riscontra una irrisolvibile contraddizione interna al sistema empiristico della conoscenza. La teoria empiristica della conoscenza, infatti, volendo individuarne il nucleo fondamentale, risolve la coscienza nella molteplicità delle impressioni che vanno susseguendosi. Impressioni che, dice la teoria empiristica, sono intese come atti percettivi isolati e ab-intrinseco sciolti da ogni connessione. Ecco perché Hume aveva definito l'io come un semplice fascio di percezione. Ma la stessa specificità di ogni impressione non sarebbe possibile, argomenta Thomas Hill Green, se di fatto non esistesse una coscienza indipendente dalla percezione stessa. Cioè se non si desse una conoscenza in grado di distinguere la percezione singola dalle altre. Sicché appare ineludibile un riferimento alla coscienza quando si desidera spiegare, cosa che nell'empirismo è ardua se non impossibile, la connessione, il nesso tra una percezione o un'idea e l'altra. Sicché quest'operazione appare possibile solo allorché si dia una coscienza, una coscienza che, indipendente dalle percezioni stesse, possa operare dall'esterno la loro unificazione. E quindi è necessario ammettere un'io unificante le percezioni che altrimenti rimarrebbero sconnesse e non potrebbero dirsi nemmeno percezioni in sé connesse e legate. Di conseguenza, spiega Green, esistono due diversi livelli. Abbiamo a un grado più basso, empirico, la coscienza individuale, la quale coscienza individuale apprende i propri contenuti in maniera graduale, progressiva. Essa, infatti, è condizionata dai processi biologici che ritmano la conoscenza dell'organismo animale. A un grado più elevato, invece, abbiamo una coscienza assoluta, una coscienza infinita. Essa già contiene in sé stessa il sapere, in guisa di una totalità perfetta e immota, anche se concettualmente già articolata al proprio interno. Sicché, al di là della sua base naturale, che è stata descritta dalla filosofia positivistica ed empiristica, la conoscenza appare come un processo di graduale, progressiva partecipazione che la coscienza individuale fa della coscienza assoluta. L'assoluto, d'altro canto, non soltanto è una determinazione gnosiologica, ma è anche una determinazione assiologica, legata al valore e morale. L'assoluto non è soltanto la verità, ma è anche il bene, dice Green. La progressiva partecipazione della coscienza assoluta da parte di quella empirica si configura allora come un progressivo innalzamento morale del soggetto individuale. Questo comporta un riflesso politico nella concezione di una società nel cui orizzonte tutti gli individui debbono cooperare spontaneamente e armonicamente per favorire questo generale innalzamento delle coscienze empiriche verso la coscienza assoluta. L'ideolismo gnosiologico, abbracciato da Green, svolge così una parte fondamentale per la difesa di una concezione organicistica e spiritualistica della morale e della politica. Per questo motivo l'analisi di Green sulla percezione e sulla coscienza sono tratteggiate in un'opera dal titolo davvero significativo, un'opera del 1883 che si intitola Prolegomeni all'etica. Dal punto di vista di Green, infatti, è del tutto sbagliata la riduzione operata da David Hume della coscienza ai suoi fenomeni. La coscienza è fuori sia dalle idee sia da ogni successione e lo è proprio perché deve poter cogliere idee e successioni. Se non esistesse o se coincidesse con quella successione non potrebbe esistere la consapevolezza stessa di quella successione. Contro ogni interpretazione naturalistica della coscienza, Green sostiene che il mondo è una serie di fatti. Un fatto non ha di per sé la capacità di comprendere né se stesso, né gli altri fatti, né il cambiamento legato alla successione dei fatti. Sicché la coscienza, dice Green, non può essere un fatto naturale. La coscienza sta al di là dei fatti ed è la base della loro comprensione. Da questa concezione Green fa scaturire una conseguenza degna della massima attenzione. L'individuo è espressione di un soggetto unico, eterno, universale, assoluto, infinito, sottratto al divenire e alla materia. È un soggetto universale che però è alla base di tutte le relazioni tra i fatti. Questo soggetto assoluto o coscienza infinita, mediante gli individui empirici, assume poi una dimensione temporale, storica, materiale. E questo soggetto assoluto, questa coscienza infinita, diviene coscienza umana sul piano immanente, allorché l'organismo animale diviene veicolo della sua estrinsecazione. Per questo la coscienza umana, in quanto funzione dell'organismo animale che veicola la coscienza eterna, muta. È successione di fatti interni che dipende dalla successione dei fatti esterni ad essa. Ma in quanto coscienza assoluta, che si veicola nell'organismo, essa è sciolta dal tempo e dal cambiamento dei fatti. È atemporale ed eterna. Sicché della coscienza umana possiamo dire ragionevolmente, dice Green, che essa è divina ed è in relazione alla coscienza assoluta. Ed è sotto questo profilo una manifestazione empirica della coscienza assoluta, se vogliamo dire così. Proprio perché la coscienza umana è, possiamo dire così, legata all'eterno e legata al sensibile, anfibia tra trascendente e immanente, di fatto l'uomo è in qualche modo un ente avente un compito, una missione fondamentale, che è quella di realizzare in sé compiutamente la coscienza assoluta. Questa coscienza assoluta, che altro non è ciò che la tradizione ha chiamato Dio, è tutto ciò che l'uomo può diventare. Indubbiamente Dio è l'essere che ci ha creati, che ci ha originati, che ci ha fatti essere, ma è anche l'essere in cui noi esistiamo, sicché noi siamo creati da Dio ma esistiamo in Dio. E tuttavia il nostro essere in Dio non vuol dire che noi abbiamo attualmente le proprietà di Dio. Ed è per questo motivo che all'uomo si pone quale ufficio fondamentale quello di diventare identico a Dio. Omoiosis, l'omologazione a Dio. Bisogna indiarsi, per dirla con il poeta, bisogna diventare come Dio. Come? Perfezionando la nostra condizione mondana, sforzandoci ininterrottamente di perfezionare noi stessi e tutto ciò che ci sta intorno. E questo perfezionamento ininterrotto non deve essere inteso come un'impresa che riguardi solo l'individuo singolo, chiuso, solipsisticamente in sé stesso. Al contrario, è un'impresa corale, comunitaria, intersoggettiva. Poiché infatti nella coscienza assoluta si trovano allo stesso titolo tutti gli uomini, che sono parti e creazioni della coscienza infinita, bisogna allora concepire, intendere e praticare quest'opera di perfezionamento infinito in un senso anche sociale. Detto altrimenti, il bene per Grimm esiste all'interno di una vita comunitaria, di una comunità in cui tutti gli individui cooperino per insieme provare ad innalzare se stessi e la società. Ecco che emerge allora una vocazione comunitaria, una morale comunitaria, in grazia della quale tutti gli uomini della società, in quanto creati da Dio ed esistenti in Dio, debbono adoperarsi quotidianamente per migliorare la società stessa e per produrre la piena realizzazione dell'identità tra umano e divino, tra società e divinità.